Allora, oggi siamo in un nuovo video di Minecraft E oggi, 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 oggi Andremo sempre nel nostro caro mondo Solo che metterò la texture pack del nuovo aggiornamento Quindi, va bene Entriamo E in più Vi volevo dire una cosa La mia playstation è autistica Infatti, voi direte perchè la stalla è finita Perchè, vi avevo già detto che la mia playstation è autistica In più mi si continua a girare la visuale da sola La mia playstation è autistica E quindi io ho fatto 11 minuti di registrazione Dove facevo questa stanza Ve la faccio vedere dopo Dove ho fatto Ehm Appunto, la stalla Ehm Poi sono andato a Mentre Stavo aspettando che la caricava Mi ha detto impossibile caricare E mi dava solo l'opzione di eliminarla Quindi, non ho avuto altra scelta Allora Ehm Off camera Perchè ci ha voluto tantissimo Perchè ci ha voluto tantissimo Allora intanto ho sistemato il carderone Carderone Calderone Qua Ecco Ehm Poi ho creato un incudine Questo che non mi ricordo come si dice Questo che non mi ricordo Ehm Affumicatore Questa è una sega rotante Ehm Ehm Ecco Ci sono alcuni Ci sono alcuni Robi Ci sono alcuni Ehm Qua c'è un telaio E qua Ho una cosa che non mi ricordo perchè l'ho fatta Perchè non la riesco ad usare Ehm Ehm Ok Allora Oggi Prima devo prendere un attimo il piccone Andremo a fare una cosa Allora intanto Questa qua è quella che abbiamo trovato dalla loot box Che abbiamo trovato la scorsa volta Trovato La scorsa volta Prendiamo un po' di torce E andiamo Nella Magione Perchè l'ultimo Nello scorso episodio Ehm Praticamente Cavolo La fame Mi sono accorto Solo adesso Che ho la fame Ok Ehm Praticamente Nello scorso episodio Siamo Sono arrivato che Cioè Praticamente Dovevamo Dovevo Dovevamo Splorare quella roba la Sperando che Ehm Non ci facciano cose brutte 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 E quindi che non ci ammazzino Di conseguenza In più se vedete tutto sto legno E perchè Boh non mi ricordo Allora Allora Coraggiosi Coraggiosi Andiamo Nella foresta Con Jimmy Johnny Allora Un attimino Oh Siamo arrivati Ehm L'ultima volta Eravamo andati Per No Non eravamo andati Per di qua Ma Ah si si Per di qua E Dovevamo Aspettate che Vabbè Lo assistiamo dopo Volevo Dovevo prendere Lo scorso episodio Non ho fatto Non sono riuscito a fare Volevo un po' Volevo Volevo Il 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 vendicator Senza Senza naso Mi mancava Sento il rumore Di scheletri Che bello Ehm E appunto E appunto Dobbiamo Esplorare E Come esploriamo Allora Stato Muori 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 rapper Nonno 크 Ma Ma Madonna Devo correre Ok ragazzi Questo episodio che abbiamo fatto Ehm Quindi Voglio andare in un territorio che ho visto scoperto vedete tipo quella roba bianchissima gigante sulla mappa ecco una montagna non è per di qua ma vabbè praticamente volevo andare a fare una piccolissima base giusto per ampliare le nostre mete expansionistiche ecco e così da avere anche un punto di vedetta che quello che ho costruito io fa letteralmente cragare che non si vede neanche perché c'è l'albero che lo sopra magari potrei andare anche in questo episodio a farlo però dubito e oggi intanto vi faccio vedere appunto il posto così magari se magari mi ricordassi dov'è da quella parte perfetto allora questa cosa vi dico già porterà via un pochetto di tempo di registrazione ma ve lo voglio ve lo volevo far vedere così almeno comunque il prossimo video madonna faccio schifo a guidare aiuto allora il prossimo video oh ciao lupo il prossimo video forse lo faccio settimana prossima zucche ok lo potrei fare settimana prossima o magari questa settimana ma non so se devo trovare la voglia in più fortnite credo che non farò il prossimo video non sarà di minecraft ma di fortnite eh lo so o magari sarà della rubrica aggiornamenti sul canale ahhh mince stavo investendo dei ruttoni su ahhh ma che cavolo muori via via ma che abusivo veramente che abusivo allora oh non si può girare di notte su minecraft e si può spiegare che subito ti attacca la peggio gente ovviamente in più c'ho sta visuale devo veramente credo che sia un problema del... della mia... del mio... cosa... del mio... della mia levetta del... del movimento della... allora scappi nel... aia aia mori 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 ooooh beh è stato gentile mi ha droppato de... dell'oro allora visto che qua allora iniziamo a ma io vi odio ma io... 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 io odio i creeper si è capito che odio... che tu... cioè... chi non odia i creeper c'è vero... ma che... ah... vabbè ehm... in questo episodio è un episodio di otto minuti e non ho fatto niente questa la chiamo... la chiamo tristezza allora... ehm... in più questo è un po'... effettivamente in questo video non volevo tanto giocare... volevo più parlare con voi di alcune cose... ehm... allora... praticamente... ehm... occuperanno un po' di tempo che dovrei dedicare a minecraft e a minecraft e a minecraft e a minecraft perché diciamocelo a tutti piace forte... ehm... a ma... ma... piace a tutti minecraft ecco... anche perché è un gioco un po' più... family friendly... infatti è Peggy 7... e... boh... non lo so... ehm... direi che... ehm... tipo volevo portare Dauntless che l'avete visto nel video della... oh cavolo... quello è un Enderman... ehm... please save me here... save me... save the... dov'è la... ah... ok... allora... ricordiamoci... camminare basso... madonna... madonna... il cago che non... che mi è venuto raga... allora... ehm... ehm... tipo volevo portare anche... ehm... cross out... che è un giochino molto bello... ehm... vi consiglio di scaricarvelo... e... niente... questo video dovrebbe finire qui... ehm... se vedete che le pecore sono... non sono più due ma sono tre perché ho fatto riprodurre... ho fatto scoppiare l'amore... in questa stalla e... ci vediamo a un prossimo video speriamo di... ehm... di Minecraft... perché... devo vedere un po' come... gli impegni... perché sì... un ragazzino di undici anni ha degli impegni... ehm... vabbè... ehm... vi auguro una buona giornata e... ciao! ciao!